Melanie Grigori è una fantastica girl, bella, piena di vitalità, piena di vitalità, e Melanie Grigori, io l'ho tanto apprezzata perché ho dato a lei un piccolo posto su mio profilo Facebook e lei per ringraziamento mi ha inviato un video dove lei si esibisce, si esibisce, si esibisce con il suo corpo bellissimo, è una ghiera bella, deve essere sana come un pesce, soprattutto piena di vitalità, si esibisce in un locale nel corno prestigioso mi pare, della Bergamo Night, Bergamo di notte, bella, bella questa Melanie Grigori, c'è il partner, c'è un maschio, lei si esibisce con un maschio e a questo maschio lei ne fa un po' di tutti i colori, cioè è una donna dominatrice, io però sono rimasto sorpreso che in questa danza erotica lui però non reagisce, non reagisce, io e Giulio l'ho guardato tutto, cara Melanie, però lui non reagisce, non reagisce, e voi fate presto a dirmi, lui non reagisce perché siamo lì in ambiente pubblico, sta recitando, sta recitando, sta recitando, c'è il pubblico, non è semplice reagire, 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 agire, reagire, cioè lei la bella Melanie agisce, lui dovrebbe reagire, non so se non avete capito, beh io ho questa obiezione, voi vedete subito, anche tu Melanie mi potresti dire, e va bene ma lì siamo, è un ambiente pubblico, è una recita, io però gli rispondo che quando andavo a scuola, io quando andavo a scuola e nelle scuole medie superiori, io avevo 15-16 anni, io pure lì mi trovavo in classe, in classe, in classe, in classe, con i miei compagni di classe, e là c'era, là c'era, la cazza, c'erano le professoresse, io reagivo, io reagivo sempre, ero sempre in stato di reazione, e quando le professoresse mi interrogavano, e io per non far vedere che ero in stato di reazione, andavo verso la catica, un po' curvo, e mi portavo a presso un vocabolario, un vocabolario, e lo tenevo lì davanti, lo tenevo davanti il vocabolario, capito? E poi potrei dire tante altre cose del genere, ma non le dico perché io sono, sono una persona che ha una, come si dice, un nome da difendere, capito? Non ha reagito il tuo patto, io mi sono meravigliato, perché io quando ero giovane reagivo, subito reagivo, reagivo subito, e reagivo pure quando andavo nei bordelli, perché io per tre anni, io ho 76 anni, io ho fatto tempo a conoscere i bordelli, tutti, ma quanti bordelli che ho conosciuto in Italia, non posso tutta qua tirare la pelle lunghe, io ero sempre in stato di reazione, Melanie, e quel partner lì mi dispiace, ma non ha reagito, io ti posso assicurare, Melanie, che anche se ho già 76 anni, io con te avrei reagito, avrei reagito, Melanie, vabbè, Melanie, dai, non so se ti siamo capiti, beh, io a parte con la vecchia generazione, a quella che è cresciuta senza l'ausilio degli antibiotici, tant'è vero che poi c'è anche questa mia opera, questa è la mia ultima opera, poi c'è anche questa che in lingua inglese sta in tutto il mondo, capito, Melanie? Va bene, bella Melanie, va bene, bella. Beh, a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.